Lo scorso 26 dicembre il Centro Storico di Mondolfo ha visto la presenza di tantissime persone per il tradizionale appuntamento di Presepe Paese, l'evento organizzato dalla parrocchia dedicato alla rappresentazione del presepio vivente per le vie e i luoghi caratteristici del borgo. Oltre 2000 persone hanno potuto ammirare le diverse scene della natività grazie all'impegno dei tanti volontari che hanno ricostruito alla perfezione l'intero percorso. Il secondo appuntamento è previsto per il giorno dell'Epifania, sempre all'interno del Paese. Tempo permettendo, la seconda puntata del presepio vivente, Presepe Paese, è il giorno dell'Epifania, sabato 6 gennaio, dalle 17.30 fin verso le 19, insomma finché c'è gente. In molti presepi quest'anno è presente anche la figura di San Francesco, infatti 800 anni fa c'è stato il presepio di Greccio. San Francesco è l'ispiratore del presepio perché lui desiderava vedere con gli occhi del corpo i disagi nei quali è nato Gesù Bambino. Allora ecco una raffigurazione della situazione concreta. Allora anche a Mondolfo sarà presente tra le varie scene, la scena di Greccio che attualizza il presepio di Betlemme, la scena di San Francesco. Ci saranno anche altre scene relative alla natività, c'è l'annunciazione dell'angelo a Maria, c'è la visita di Maria incinta ad Elisabetta, ci sono i magi che vanno ad adorare Gesù, c'è il censimento, insomma si entra in un mondo, si interagisce con il presepio. Un evento che sta crescendo, un evento che rappresenta la tradizione, un evento che coinvolge è anche tanti volontari e quindi anche quest'anno ha raggiunto un numero considerevole di figuranti, quindi circa 200 figuranti, quindi siamo davvero soddisfatti con l'amministrazione comunale, è un evento cui teniamo particolarmente e ci teniamo a ringraziare la parrocchia di Mondolfo e tutti i volontari per il grande impegno e perché anche quest'anno con grande entusiasmo hanno partecipato all'iniziativa e quindi invitiamo tutti coloro che non l'hanno ancora fatto a venire qui nel nostro centro storico, a conoscere il borgo e a vivere la sfera magica del presepio proprio qui a Mondolfo.